Paola Barale tuona contro i suoi ex, Gianni Sperti e Raz Degan. Paola Barale è tornata in tv da poche settimane, mettendosi in gioco a Ballando con le stelle. La showgirl piemontese è molto amata dal pubblico, ma nonostante questo, è sempre stata restia a parlare della sua vita privata. Sino a poco tempo fa, aveva mantenuto il silenzio sulla fine del matrimonio con Gianni Sperti e sull'addio a Raz Degan, due dei suoi ex più famosi. Ebbene, la nostra Paola, durante un'ospitata a Verissimo, ha finalmente svelato i motivi della rottura con l'ex marito e con il modello israeliano. Parlando dei suoi ex amori, la Barale ha usato parole abbastanza dure. Secondo la donna, entrambi si sarebbero dimostrati poco leali con lei. Ricordiamo che la Barale è stata sposata con Gianni Sperti per tre anni, dal 1999 al 2002. I due si erano conosciuti e innamorati nel 1998, a Buona Domenica, dove entrambi lavoravano. In tutti questi anni, nessuno dei due ha mai parlato delle cause che li hanno portati a divorziare. All'epoca della loro separazione, i rotocalchi di gossip non parlavano d'altro che dell'orientamento sessuale di Gianni. Da parte dei diretti interessati, il silenzio più assoluto. Poi la Barale iniziò la lunga relazione con Raz Degan, durata dal 2002 al 2015. Ebbene, di fronte a Silvia Tofanin, la nostra Paola ha rivelato che dietro alla rottura con entrambi i suoi ex, ci sono state delle mancanze. La showgirl di Fossano, ha parlato di mancanza di verità. La Barale ha confidato che, dopo il divorzio da Gianni, i due si sono persi di vista. Si sono rivisti solo in tribunale. Insomma, non è rimasto un buon ricordo. Si è saputo che durante il matrimonio, i due avevano parlato di avere dei figli. L'ex ballerino avrebbe voluto diventare padre, ma Paola non se la sentiva, anche perché era molto impegnata con il lavoro. Forse anche per questa divergenza di vedute, i due si sono separati. Si era vociferato ai tempi che la Barale avesse lasciato Gianni per Raz Degan, ma la relazione con il modello israeliano, iniziò dopo la sua separazione da Sperti. Relazione quella con Raz, durata ben 13 anni. Anche con Degan, la Barale non è rimasta in buoni rapporti. Non è rimasta amica né di Gianni, né di Raz, forse perché, a suo dire, entrambi si sono comportati male con lei. Entrambi non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che sono. Non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Insomma, sono due uomini simili. Questo è quello che emerge dalle confessioni di Paola. Parole non proprio tenere quelle usate dalla showgirl piemontese nei confronti di Sperti e di Raz Degan. Entrambi i suoi ex l'hanno delusa profondamente. Ecco perché oggi, preferisce stare da sola. E, singola e felice. Troverà di nuovo l'amore? Magari tra un ballo e l'altro in quel di ballando con le stelle? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. A voi i commenti. 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 Grazie.